Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sugli angoli e rette del piano oggi vedremo le rette tagliate da una trasversale. Per chiudere questa nostra unità quindi di geometria andremo a vedere quali sono le proprietà degli angoli formati da due rette incidenti fra di loro e poi vedremo cosa succede se abbiamo due rette qualsiasi tagliate da una trasversale e infine il caso particolare di due rette parallele tra di loro tagliate da una trasversale cioè vedremo le proprietà e anche in un caso i nomi specifici degli angoli formati da queste rette. Come nella migliore tradizione però mi piacerebbe iniziare con l'enigma del giorno che oggi si chiama Logica d'Argento. Uno scultore crea delle statuine utilizzando dei lingotti d'argento. Un unico lingotto è sufficiente per realizzare una sola statuina. La limatura d'argento che si forma, quindi un po' i resti della lavorazione ogni 6 statuine prodotte può essere fusa per impastare un altro lingotto quindi ogni 6 statuine o è necessario per farne anche un'altra. Quindi quante statuine può creare lo scultore con 36 lingotti? Di nuovo mettete in pausa questo video e provate a risolvere da voi. E la risposta è 43. Come mai 43? Intanto partiamo dal fatto che abbiamo 36 lingotti quindi ogni lingotto una statuetta quindi so già che faccio almeno 36 statuine però so anche che ogni 36 statuine ho abbastanza limatura d'argento per farne un'altra. Quindi cosa faccio? Faccio a parte questo calcolino 36 diviso 6 quindi so che da questi 36 lingotti originali riesco a ottenere abbastanza limatura d'argento per altre 6 statuine. Ma attenzione! L'esercizio mi dice che ogni 6 statuine riesco ad avere abbastanza limatura d'argento per fare un'altra statuina quindi da queste 6 ne ricavo ancora un'altra. Quindi il mio risultato è 36 più 6 è 42 più 1 è 43 statuine in totale. Ma vediamo al programma di oggi. Cominciamo con gli angoli formati da due rette incidenti. Quindi in questo momento vi chiederò di armarvi di matita e righello e disegnare due rette incidenti tra di loro. Dopo averle disegnate vorrei che pensassi cosa possiamo dire riguardo agli angoli che queste due rette formano tra di loro. Ok? Quindi armandoci di righello per esempio disegno una prima retta io ora l'ho disegnato orizzontale ma voi disegnatelo un po' come vi pare poi ne disegno una seconda ad essa incidente e dovete pensare a 1, 2, 3, 4 a questi quattro angoli che caratteristiche essi possono avere. Mettete di nuovo in pausa questo video e poi ci rivediamo tra poco. Prima di continuare è bene dare un po' di nomi a questi angoli. Allora chiamerò questo primo angolo alfa quest'angolo qui userò un numero diverso di archetti beta quest'angolo qui lo chiamerò gamma e quest'angolo qui lo chiamerò delta usando quindi la convenzione di usare lettere greche per indicare gli angoli. Allora molto probabilmente dovreste esservi accorti che intanto per esempio se prendo due qualsiasi angoli consecutivi che so alfa e beta oppure beta e gamma oppure gamma e delta oppure delta e alfa ciascuna di queste coppie è formata da angoli che sono tra di loro supplementari ovvero sono degli angoli che insieme formano un angolo piatto un angolo di 180 gradi. Un'altra osservazione che molto probabilmente avete fatto è che gli angoli opposti o come si dice in questo caso opposti al vertice dove il vertice è questo punto dove si incrociano le nostre due rette sono tra di loro sono congruenti quindi alfa e gamma sono congruenti tra di loro beta e delta sono congruenti fra di loro. Questa caratteristica ci permette una volta misurato anche uno solo di questi angoli di conoscere automaticamente tutti gli altri angoli formati da queste due rette incidenti fra di loro. Ecco ora aggiungiamo un altro attore alla nostra storia invece di considerare solo due rette ora ne consideriamo tre cioè due rette qualsiasi che vengono tagliate da una trasversale quindi come prima righello e matita disegnate due rette qualsiasi possibilmente proprio non parallele e non esattamente perpendicolari cioè due rette a caso chiaramente due rette nel piano no? come sto facendo io per tradizione o diciamo pure anche un po' per pigrizia la prima la disegno sempre orizzontale questa è la mia seconda retta e ora disegniamo la trasversale per esempio ma di solito la trasversale si disegna ecco questa è per così ma insomma non cambia nulla qui di nuovo ecco la mia trasversale la domanda a questo punto come nel caso precedente cosa possiamo dire agli angoli formati da queste tre rette in particolare quanti angoli vediamo e che relazioni ci sono tra di loro come prima vi raccomando mettete questo video in pausa discutete un attimo tra di voi fate le vostre considerazioni e poi ci rivediamo quindi vi sarete sicuramente accorti che per esempio se prendo la prima retta la sua trasversale i quattro angoli da loro formate hanno le stesse proprietà di quelle abbiamo visto prima che sono alfa e beta per esempio sono tra di loro supplementari alfa e gamma opposti al vertice sono congruenti beta e delta opposti al vertice sono congruenti e così ogni coppia di angoli consecutivi sono supplementari i corrispondenti questo è un nome che poi dobbiamo ricordare che chiameremo sempre nel solito ordine ora uso un archetto solo anche se non è la stessa cosa alfa primo beta primo gamma primo e delta primo avranno le stesse proprietà ma tra di loro in realtà non hanno niente particolare nel senso che beta e beta primo sono diversi così come sono diversi alfa e alfa primo delta e delta primo gamma e gamma primo le cose tuttavia potrebbero farsi interessanti se invece di due rette qualsiasi andiamo a considerare due rette parallele ecco cosa succede se a questo punto invece consideriamo due rette parallele tagliate nella trasversale come vedete in questo caso ho già disegnato la nostra situazione e vi invito a fare altrettanto e ho già dato i nomi agli angoli usando la stessa convenzione quindi ho due rette parallele che ho chiamato R ed S tagliate da una trasversale T e ho dato agli angoli i nomi soliti alfa beta gamma delta alfa primo beta primo gamma primo e delta primo ecco sulla base di quello che abbiamo osservato nei due casi precedenti che cosa possiamo dire riguardo alle relazioni che ci sono tra questi angoli come prima mettete in pausa il video discutete provate e poi ci rivediamo allora molto probabilmente siete giunti alla conclusione che se vado a considerare questo gruppo di angoli e questo gruppo di angoli qua giù in basso vado a ottenere una situazione molto simile ovvero non solo so già che che so alfa e gamma opposti al vertice sono congruenti tra di loro ma anche gli angoli corrispondenti alfa e alfa primo sono congruenti fra di loro e anche alfa e gamma primo sono congruenti fra di loro e se vado a esplorare più oltre a questo punto vedo che anche beta che è il supplementare di alfa è congruente non solo a delta ma è congruente anche a beta primo ed è congruente anche a delta primo quindi la cosa interessante e poi insomma andremo a spiegare perché siamo andati a fare tutto questa analisi se io ho due rette parallele tagliate da una trasversale mi basta individuare uno solo di questi otto angoli per conoscere tutti gli altri sette per capirsi poi questa costruzione sta poi alla base di alcune costituzioni geometriche che poi faremo nella prossima unità quando andremo a introdurre i poligoni per esempio se voi pensate a una situazione come questa e poi un'altra retta magari parallela a T che taglia queste due rette parallele vado a individuare un parallelogramma e qui vengono fuori un po' delle proprietà legate ai quadrilateri noti come parallelogrammi a questo punto però c'è un momento in cui ora c'è da scrivere qualcosa perché io ho già usato una terminologia per indicare alcuni di questi angoli quando si parla di rette parallele tagliate a trasversale c'è tutta una serie di terminologia che va saputa e quindi questo è l'argomento della prossima slide quando si parla di rette parallele tagliate a trasversale noi usiamo tre tipi di termini angoli corrispondenti angoli coniugati e angoli alterni ora il termine angoli corrispondenti l'abbiamo già usato in pratica vanno a individuare quegli angoli che rispetto alle due rette parallele si trovano la stessa posizione per esempio alfa si trova in alto a destra per la prima retta parallela il suo corrispondente è alfa primo che si trova appunto in alto a destra rispetto alla retta S beta è il corrispondente di beta primo gamma è il corrispondente gamma primo e delta è il corrispondente delta primo e per quello che abbiamo detto prima questi angoli sono tra di loro congruenti quindi hanno la stessa ampiezza poi abbiamo gli angoli coniugati gli angoli coniugati sono quelli che stanno dalla stessa parte quindi o a sinistra o a destra rispetto alla trasversale cosa significa interni e esterni interni significa che si trovano all'interno di questa fascia individuata dalle due rette oppure al di fuori da essa quindi o sopra o sotto quindi per esempio sono coniugati interni gamma e beta primo perché si trovano entrambi a sinistra della trasversale e delta e alfa primo e cosa hanno di speciale hanno di speciale che sono tra di loro supplementari perché perché io so già che gamma e beta sono supplementari ma beta e beta primo sono uguali fra di loro quindi anche gamma e beta primo saranno supplementari e lo stesso farà per delta e alfa primo quindi questi qui sono supplementari lo stesso varrà per gli angoli coniugati esterni quindi sono o quelli a sinistra o quelli a destra rispetto alla trasversale t che si trovano a questo punto esterni a questa fascia quindi parliamo di beta e gamma primo alfa e delta primo e applicando un ragionamento simile a quello abbiamo fatto prima anche queste coppie sono formate da coppie di angoli supplementari all'opposto abbiamo gli angoli alterni quindi cosa significa avere angoli alterni significa che uno sta a sinistra della trasversale e uno sta a destra e di nuovo vale il concetto di o ti trovi all'interno di questa fascia fatta da due rette o all'esterno quindi per esempio gamma è l'alterno interno di alfa primo delta è l'alterno interno interno scusate di beta primo beta di delta primo gamma primo di alfa di nuovo con un ragionamento simile a quello abbiamo fatto prima in questo caso non viene che non sono supplementari questi sono angoli tra di loro congruenti per finire questo video che decisamente è denso di argomenti vi lascio con un semplice esercizio quindi consideriamo due rette rs parallele chiaramente tagliate da una trasversale t vi dico che questo angolo qui che corrisponde a quello che ho sempre chiamato alfa nei disegni precedenti è uguale a 30 gradi l'esercizio che vi lascio è di trovare il valore di tutti gli altri sette angoli di questo disegno basandosi sulle considerazioni che abbiamo fatto finora in classe vedremo la soluzione a questo esercizio ma per oggi è tutto arrivederci da mister boscherini grazie a tutti Grazie a tutti.